Sì, certo, ma il sostituto quando arriva? Guarda, ho passato al setaccio la lista, ma trovarlo sembra un'impresa. Al momento nessuno vuole mettere piede qui dentro. Bashir Lazar, io sarei qui per il posto. Ci sono delle procedure da seguire. Ho prestato servizio 19 anni in una scuola di Algeri. Io sono disponibile anche subito, caso mai ne aveste bisogno. Molto bene, da ora posizioneremo i banchi in file dritte. Sì, 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 avanti, avanti, spostate i banchi, su. Sarete così gentili da fare un piccolo dettato. Da lei, dettato. Le suggerirei di semplificare un po' i dettati. È tratto dalla pelle di Zigrino, di onore dei Balzac che suppongo conosciate. Noi non abbiamo mai fatto un dettato. O serio? Da Balzac no, di certo. Pensavo di portarli a vedere il malato immaginario. Si strapperanno i capelli dalla gioia. Come ti stai trovando con i ragazzi? No, no, le coiugazioni! Silenzio, per favore! Molto bene, grazie mille. Ma qui comandano le donne, te ne accorgerai. Cosa vorrebbe insinuare? Proprio niente, mi pare. Col tuo arrivo abbiamo raggiunto il 50%, è un miracolo, non so se mi spiego. Ti serve uno strappo? Cosa? Appunto, non siamo più negli anni 90, l'Algeria è tornata alla normalità. Niente, è mai completamente normale in Algeria. Sono terribilmente angosciato. Sono molto in pena per i ragazzi, ecco. Ho sognato che erano adulti ma parlavano ancora come dei bambini. Con la vostra, questa è il tracento. Beh, lei è nuovo qui. Accetti un consiglio. Si limiti a fare il professore a insegnare, piuttosto che educare i nostri figli. È per causa del terrorismo che te ne sei andato. Così si può dire. Dunque, la crisalide è un insetto che sta a metà tra il bruco e la farfalla. Il suo alloggio è un bozzolo fragile da cui al momento opportuno spiegherà le ali. Come voi. Baci! Sa, ho visto delle foto di Algeri su internet. È bianco e blu, vero? La chiamiamo Algeri la bianca per questo. Noi dovremmo chiamarla Morreala Bianca Sporca.